Oggi affrontiamo la porta OR con il chip 7432. Vediamo come funziona, qual è la sua tavola della verità, il simbolo e la proveremo su una breadboard. Iniziamo subito. Vediamo oggi il funzionamento di una porta OR, in particolare utilizzando il chip SN74LS32. Questo è un vecchio chip che aveva nel cassetto, difatti ha la sigla LS. Il simbolo della porta OR è un po' più difficile da disegnare, è una specie di triangolo arrotondato. Abbiamo gli ingressi AB e l'uscita O, descritta da una tabella della verità che ha tre colonne. Dovremo trovare tutte le configurazioni possibili. Avendo due ingressi con due state abbiamo quattro righe, quindi 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. L'uscita è alta se almeno uno dei due ingressi è alto, quindi 0, 0, 0 e in tutti gli altri casi 1. Ho scritto 0, potevo mettere L, sono analoghi, quindi L è uguale a 0 e H è uguale a 1. Questo è uguale a 0 volte, questo qui è uguale a 5 volte nell'ipotesi di lavorare 5 volte. Il circuito integrato che andiamo a utilizzare è un chip con 7 più 7 pin, quindi è un DIP 14 che ha quattro porte al suo interno. Provo a disegnarvelo qui. Ovviamente andate a vedervi il datasheet, esistono anche versioni più aggiornate. Questo è uno dei tanti perché sia per le versioni CMOS che per le versioni TTL trovate i vari modelli. Se volete delle porte OR di tipo CMOS, quindi serie 40, potete andare a prendere 40, 71, vedete 40, 72 e così andate a vedervi i datasheet e vedete come sono realizzati, quindi quali sono le caratteristiche, quanti ingressi e come funzionano. Se questo lo volete CMOS basta cercare 74HC32. Ok, la piedinatura è standard sull'alimentazione, abbiamo il pin 7 che è il ground e il pin 14 che va al VCC. Le porte sono messe in questo modo, quindi abbiamo sui pin 1 e 2 i due ingressi, sono messi così, e poi l'uscita sul pin 3. Sono disposte tutte con la punta verso il basso, quindi qui adesso provo a disegnare i pin in modo un po' ordinato, anche se poi fatte a mano diventano un po' una porcheria. Quindi la seconda è messa così e le altre sul lato destro sono anche loro disposte in modo simile. Quindi le trovate con l'uscita verso il basso. Ok, una è qui e l'altra da questa parte. Potrebbe capitare che magari a volte avete un chip e la porta OR che avete all'interno ha magari 3 o 4 ingressi. Se a voi ne servono meno, per come funziona, basta semplicemente collegare i due che non vi servono a ground. Li tirate a zero e vedete che non danno fastidio perché passano solo gli uni. Vediamo un attimo il circuito che ho realizzato per provarlo. Niente di stratosferico, è veramente semplice, poi magari vedremo di fare qualcosa di un pochino più intelligente. Comunque per provare il chip l'ho messo su una breadboard, sono andato a collegare il pin 7 e 14 all'alimentazione, quindi 5 volt tassativamente. L'uscita sul pin 3 l'ho collegata con classica resistenza da 3,90 a un LED che poi va a ground. Gli ingressi ne abbiamo due, per tutti e due ho usato il sistema della resistenza di pull down, quindi abbiamo il pin 1 e 2. Gli ingressi li ho collegati entrambi con resistenza da attenzione, ho messo 3,90 verso ground sia uno che l'altro. Solitamente avrei messo un valore più alto, però questa volta volevo fare un po' di scena per collegargli dei LED. E quindi se la mettevo da 10k il LED non mi si accendeva e ho fatto una cosa del genere. In modo che possiamo vedere quando l'ingresso è alto e basso a seconda di come andiamo a collegare il jumper o se qui mettiamo il pulsante a seconda di quando premiamo il pulsante. Per dare un'indicazione visiva del segnale applicato all'ingresso. Quindi questo circuito andiamo a vederlo montato su breadboard, qui lo vedete assemblato con le due resistenze di pull down, questi LED dell'ingresso, alimentazione 5V, un condensatorino da 100nano, alimentazione sul pin 14, ground sul 7. Questa è l'uscita, vedete l'ho presa sul pin 3 con il LED, resistenza da 3,90 verso ground. I due segnali di ingresso arrivano sul pin 1 e 2. Uso i jumper perché non avevo i pulsanti per fare prima. Andiamo a vedere cosa succede combinando se viene rispettata la tabella con un ingresso alto, l'uscita è alta, le metto tutte e due alte e ovviamente è sempre alta. Devo spegnerle tutte e due perché l'uscita sia di nuovo bassa, quindi rispetto alla tabella che abbiamo incontrato. Più attenti si saranno accorti che questo circuito è un po' critico. Perché? Perché qua avete il pulsante, qui il LED, quindi quando io premo il tasto, qui non ho proprio 5V, ma ho 5V meno la tensione del LED. In questo caso il LED è rosso, quindi è poco meno di 2V, quindi potrebbe essere 1,8V. E la tensione a questo punto sarà quindi un po' inferiore. Nonostante questo il circuito scatta e funziona senza problemi perché se voi andate a vedere il datasheet del SN74LS32 vi dice che la tensione di ingresso a livello alto parte da 2V. Quindi se facciamo un grafico, questo è il 5V, riconosce la tensione come alta che è presentata all'ingresso a partire del 2V a salire. Quindi in questa fascia è tutto considerato high. Invece se siamo tra 0,8V e 0, quindi qui sotto, me lo vede come low. E quindi siamo salvi. Quindi non ho fatto una figuraccia, anche se devo ammettere che non ci ho pensato e mi è venuto in mente dopo. Questi video come vedete sono molto didattici, quindi possono anche servire come spunto per fare delle semplici attività magari a scuola e in classe, ai ragazzi per fargli provare i chip logici digitali. Bene, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo domani. Ciao!